Il picco influenzale era atteso e questa settimana è arrivato, mettendo a letto circa 832 mila italiani. Con molta probabilità, anche in Emilia-Romagna, come segnalato dalla rete di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, è stato raggiunto il momento di massimo contagio, confermato anche da un maggior accesso ai pronto soccorso delle città proprio per via dei sintomi causati dai virus, che nella maggior parte dei casi si manifestano con febbre alta, raffreddore e mal di testa. Come ogni anno, i più colpiti, ma anche coloro che contribuiscono maggiormente alla diffusione della patologia, sono i bambini in età pediatrica. L'80% dei casi gravi e l'85% dei decessi presentano almeno una patologia cronica preesistente ed è negli anziani e nei malati cronici che il virus tende a causare più complicanze. 8 i decessi di cui si è venuti a conoscenza nella nostra regione, 3 nel Bolognese, 2 nel Reggiano, 2 nel Cesenate e 1 nel Ferrarese, che riguardano nella maggior parte dei casi persone ultra-sessantenni. Rispetto allo scorso anno, la situazione pare andare meglio anche grazie a una maggior copertura vaccinale. Secondo gli esperti, infatti, un numero più elevato di persone ricorse al vaccino è riuscito a spezzare il circuito dei contagi.